Sono tornato finalmente con un nuovo video, ho un microfono nuovo, una casa nuova, che non è nuova, dei pannelli che assorbono la mia voce, ho delle luci puntate su di me, spero si veda meglio, si senta meglio. Detto ciò, oggi parliamo di sideways, sideways, sideways letteralmente vuol dire lateralmente, quindi di lato. Per esempio, she tilted her body sideways, però sideways si può usare anche in altre occasioni, come per esempio quando qualcuno ti guarda sideways, durante la riunione ha guardato verso di me e mi ha guardato storto. He looked at me sideways, mi ha guardato storto. Attenzione, quando mettiamo il verbo to go prima di sideways, vuol dire che le cose stanno andando storte, le cose si mettono male, per esempio. Sometimes things go sideways. Alcune volte, qualche volta, le cose possono andare male, mettersi male. Oppure, per esempio, vi eravate programmati di fare una cosa in una certa maniera, ma le cose si sono complicate, le cose sono andate storte, e potreste dire, well, that went sideways, cioè, beh, le cose sono andate storte, cioè non sono andate come c'eravamo pre, pro, pre. Una bella frase che ho trovato su internet è, per esempio, una madre preoccupata, perché magari la figlia va all'estero, e dice, here is some pepper spray, just in case things go sideways. Cioè, ti do un po' di spray al peperoncino, nel caso le cose si mettano male, nel caso le cose vadano storte. Quindi, sideways, da solo, lateralmente, di lato, quando qualcuno ti guarda sideways, he looked at me sideways, vuol dire che ti sto guardando storte. Invece, quando le cose vanno sideways, good to go sideways, vuol dire che le cose si stanno mettendo male, stanno andando storte. Ciao!